Il Franciacorta Vintage Collection Dosazero è un altro della serie di Vintage Collection ed è un millesimato, in questo caso le uve in gioco sono tre, il Chardonnay, il Pino Nero e il Pino Bianco. Il Dosazero probabilmente è il vino più estremo perché è assolutamente naturale, ciò vuol dire che quando avviene la sboccatura non viene utilizzata la liquido a disposizione che è lo sciroppo di dosaggio, quindi un'aggiunta di zucco ed è per i palati diciamo più esigenti che amano i vini assolutamente incontaminati, naturali e a volte un po' scontrolli. Passando all'assaggio, si avverte immediatamente questa grinta, questa spiccata personalità che ne fa il vino probabilmente perfetto per un aperitivo ma anche come accompagnamento di piatti non a base di carne e mai con dolci naturali.